Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video questo video è particolare, perché vi parlo di lui vi hanno già parlato facendovi sapere che iniziavo a fare delle cose con Android anche per forzarvi trucchi, app con lui ma oggi vi parlo di una cosa che spesso mi chiedete che succede soprattutto con gli smartphone più economici ma tutto subito dopo la sigla eccoci qui, come ho detto nel video di questo video oggi vi mostro un trucchetto una cosa che succede con tutti gli smartphone che non possiedono, possiedono fotocamere di un certo livello con sensori magari performanti e soprattutto questo succede con gli smartphone economici questo è lo Xiaomi Smart P 2019 il Huawei P Smart 2019 dove tiene solamente due camere e il flash LED le camere comunque non sono da buttare perché parliamo comunque di buoni megapixel e con lui andiamo a vedere questo trucchetto questo è uno smartphone economico dove si può fare comunque tanto basta avere delle accortezze passiamo sullo Xiaomi P Smart 2019 ecco qua come ho detto già all'inizio di questo video comunque ho detto già nel video che questo video è dedicato a un trucchetto perché quando abbiamo un smartphone economico dove non abbia una fotocamera molto performante può accadere che contro luce ci dà proprio questo effetto e lo smartphone non riesce a mettere a fuoco molto bene o comunque precisamente quello che si può fare per ovviare appunto a questo è questa cosa è pigiare con il dito sulla zona di fonte di luce in questo caso questa fonte di luce e con il ditino questa è una cosa che c'è in tutti gli smartphone andare a fare solamente questo dove c'è questo sole vedete questo sole che appare questo segno del sole e andare a in base alle nostre scelte a o diminuire l'esposizione o aumentare l'esposizione in base alle luci questo ci aiuta anche quando stiamo in alcune situazioni che non possiamo farne a meno poter fare una fotografia comunque gestendo l'esposizione della luce forte quindi contro luce quando ci troviamo soprattutto contro luce questa è una comodità che a volte ci aiuta a volte non fa nulla ma l'altra alternativa sarebbe cambiare proprio zona comunque non stare contro luce ma questo è tutto ma questo è tutto Grazie.